Allora buongiorno da Italia Azzurro 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre è il quasi che mi frega mi trovo sul passo del Centrocroci dunque in questo momento passiamo dalla zona 4 alla zona 1 Baleinfige e di fronte a me si apre l'immensità del Golfo Ligure direzione Monte Zuccone attivazione Sota Italia Lima Golf 322 con un più 11 sarebbe stato perfetto chi mi becca il motivo dell'affermazione con un più 11 cioè 333 chi mi becca il motivo di questa affermazione vince passiva un dipolo con banda scelta adesso iniziamo il sentiero che è decisamente bello e percorribile ovviamente come al solito ho lasciato a casa al drone non c'è vento portavo il drone c'era vento e tempesta infatti le paleoliche sono ferme allora ancora buongiorno da Italia Azzurro 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre attivazione finita e come al solito questo segmento del video lo metto prima a seguire i QSO volevo fare due semplici considerazioni sul sul tipo di antenna allora ho voluto utilizzare la verticale per la banda dei 20 metri quindi lo stilo MFJ di circa 5 metri rotti con 5 radiali alla base anch'essi di circa 5 metri quindi posso fare la banda dei 20 metri con la verticale senza accordatore volendo accorciandola posso fare anche la banda dei 15 o dei 10 e sempre senza accordatore poi notando che in banda 20 metri e la cosa mi è stata confermata anche da Claudio Italia Azzurro 5 Giulia Telima Foxtrot che lui operando dal QTH vicino al mare proprio sul mare e ha la perfetta è a perfetta conoscenza della situazione propagativa e me l'ha fatto presente anche lui guarda stamattina niente silenzio silenzio in banda allora visto che avevo con me il dipolo per i 40 e i 20 metri non avevo portato il palo di supporto quello della Dixwire in vetta c'è un crocifisso a un'altezza di circa 3 metri rotti e ho montato il vertice del dipolo lì e nonostante l'influenza della struttura metallica del sostegno e la relativa bassa altezza da terra rispetto al solito l'antenna risuonava perfettamente sui 40 40 metri con l'antenna così bassa da terra skip corto diciamo envis e quindi un numero di QSO decisamente superiore per la banda dei 20 metri con la verticale o è passato un topino con la verticale una decina di QSO o molto vicini cioè nel senso diciamo in ottica colleghi della zona 1 e della zona 2 Piemonte e Lombardia praticamente in ottica dal sito dove ero posizionato o se no skip lungo non lunghissimo diciamo Grecia se non ricordo male Polonia e Portogallo se non ricordo male in banda 20 metri invece tutt'altra storia però anche qualche corrispondente del nord Europa ora prendiamo il nano eh no l'MFJ vieni qua poi vieni qua allora qui ci siamo ok batteria corrente 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 cioè io non lo so cioè 1 a 1 a 14 360 andiamo un po' più giù cioè facciamo le riprese così con questo bellissimo faccione aia le ginocchia ciao 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 roger roger my friend sierra quebec 9 charlie whisky oscar five five your report a qsl cambiamo banda queselle ti ringrazio 59 più è il tuo rapporto reale 59 più referenza sota italia lima golf 322 perfetto florida 5 november zulu ontario florida 5 november zulu oscar 59 qsl ecco alfa 3 ecco victor lima qsl allora i z1 giuliette limo hotel 59 qsl allora italia uniforma otto sierra whisky yankee 59 florida e te golf over roger maurizio italia zulu zero alfa radio lima 59 nel qrm allora november delta delta avanti roger italia chilo 1 november delta delta 59 anche per te qsl allora italia chilo 6 lima bravo tango 59 qsl fischietto ecco alfa 2 charlie chilowatt x-ray 59 qsl cosa ci vuoi fare allora sono a 7105 roger 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 oscar eco 5 hotel whisky messico 59 euro 4 thank you my friend a good weekend italia italia uniform 3 golf chilo juliette perfetto italia uniform 3 golf chilo juliette 59 più più qsl alessandro scusami ma molto c'è un idiota che mette la portante va bene alessandro 5758 per te buon divertimento ciao ciao 73 no non è un problema è fischietto e fischietto segue tutte le attivazioni sotto e pota in italia è simpaticissimo grazie ciao 73 delta lima 2 Robot acquisore Per Collection eh omi alt like e ah Perfetto Italia Azzurro 4 Victor Quebec Sierra per Italia Azzurro 5 Giulietta Lima Foxtrot ti ringrazio claudio perché non era un'attivazione se mi mancava italia zulu 5 giuliette lima foxtrot allora in 20 metri con la verticale pochi qso o con lo skip molto lungo o praticamente in ottica in 40 metri non c'è problema ho buttato sull'antenna qui dal crocifisso sulla vetta speriamo che la madonna non se ne abbia male ma farò un'offerta farò un'offerta alla chiesa però in 40 metri non c'è mica problema del cambio claudio italia zulu 5 giuliette lima foxtrot